Oggi il meteo è valido, andiamo sul Monte Galber, è un'ora di cammino alla cima più alta dell'Aplose, è martedì oggi giusto? Oggi il meteo è un'ora di cammino alla la marmotta tullullu, la marmotta tallalla, la marmotta, la marmotta che sembra un po' un topolone Ecco, ecco il richiamo, richiamo, ha chiamato l'amica Si è accorta di noi, ci sta osservando, è un piccolo arsetto Ecco, seguiamo il sentiero e poi ci ne spieghiamo in costa sul Monte Pino più alto dell'Aplose Mi è vicina La vedi chicca? La vedi? Si, faccio Eh va bene, pazienza Esatto Anche la mentera della figlia ci portano in vetta Non ce la faccio più Cosa faccio? Siamo arrivati Cosa faccio? Siamo arrivati Cosa faccio? Siamo arrivati Cosa faccio? Cosa faccio? Siamo arrivati Cosa faccio? Siamo arrivati Siamo saliti sul Monte Galber, abbiamo fatto due riprese col drone e ora scendiamo verso la Margaro Salm, ci vuole un'oretta e li mangeremo. Ecco lì si sta rischiarando un po', ecco qua, stiamo scendendo dal Galber al rifugio Rosal, c'è qualcuno che mi grida aspettavi lì, non aspetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!